Toma in Italia, buongiorno, sono Cristian, come posso aiutarti? Ciao Cristian, ho appena effettuato l'ordine sul vostro sito, ma mi sono appena resa conto che ho scritto un indirizzo di consegna errato. Ho visto che l'ordine è già stato spedito, è ancora possibile cambiare l'indirizzo? Ok, potresti indicarmi il tuo numero cliente, per favore? Certo, il mio numero cliente è 364681. Ok, perfetto, grazie. Allora, vedo che abbiamo spedito l'ordine questa mattina, in questo caso se vuole possiamo inoltrare al corriere una richiesta di cambio di indirizzo, non c'è problema. Potrebbe indicarmi l'indirizzo corretto? Potresti. Il mio indirizzo corretto è via Milano 12 Roma. Ok, perfetto, grazie. In questo caso inoltreremo la richiesta al corriere e non appena avranno aggiornato l'indirizzo lo potrà vedere anche sul tracking del pacco. Grazie mille per il tuo aiuto, Cristian. Di nulla, figurati, buona giornata. Sai cosa abbiamo in comune con te? La tua stessa passione per la musica.